Un vecchio e un bambino si prese per mano e andavano insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare. Tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva. L'anima assente con gli occhi... Buongiorno a tutti, ci troviamo nel comune di Fanano, presso il laghetto Le Sorgenti, dove siamo venuti a fare un video riguardante la trottarea. Non è proprio un video, siamo qua più che altro perché dobbiamo allenarci, perché prossimamente avremo una grande sfida con due grandi agonisti della trotta torrente e non vogliamo arrivare impreparati. Visto che ci eravamo e volevamo che questi sapessero che noi ci stiamo preparando, abbiamo pensato bene di fare un video. Lei cosa ne dici Cristian? Io dico che oggi speriamo che sia una bella giornata e dico a Luciano e Arno di allenarsi perché presto, quando due bolzanini troveranno due emigliani sarà dura per loro. Sarà molto dura per loro, molto molto dura. Comunque adesso noi innanzitutto cominciamo a preparare le canne per andare in pesca, intanto possiamo fare una piccola panoramica con il padrone del lago, il signor... Gabriele Ballocchi. Dove faremo vedere questo stupendo impianto che è veramente una cosa che merita. Grazie a tutti per adesso. Buongiorno a tutti, vi presento un po' la nostra attività che è composta dall'allevamento, dalla pesca sportiva e da un piccolo ristorantino. Vi faccio vedere l'allevamento. La prima vasca che incontriamo è quella relativa alle trotte e fattrici che utilizziamo per la spremitura. Abbiamo trotte e fario, fario nostrane, fario stellate, iridee, salmerini di fonte e salmerini alpini. L'allevamento, la prima licenza dell'allevamento risale al 1979 e mia nonna era intestato, Corsini Marianna, che ha portato avanti l'attività fino ad oggi insieme a Ballocchi Dante e ai figli Alessandro, Daniela e Beatrice. Ok, Gabriele, allora questa è la vasca per la riproduzione, dove vengono tenute le trotte per la riproduzione. All'interno di questa vasca procediamo alla spremitura dei maschi e delle femmine di ogni esemplare. I maschi fanno il latte e le femmine le uova. Dopodiché procediamo a mettere le uova e il latte dentro delle vaschette e a riporle poi nell'incubatorio che abbiamo in fondo al lago che dopo vi mostrerò. Iniziamo nel mese di novembre con la spremitura che prosegue nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio. Ogni razza è pronta nel suo momento. Sicuramente un posto per l'estate fantastico perché è molto fresco, siamo ai piedi del Monte Cimone, si può pescare, si può mangiare bene, si può bere meglio. Consigliamo a tutti di venireci a fare un giro. Allora Gabriele, come dicevo sopra patrici, veniamo giù e troviamo queste tre vasche. Qui abbiamo la rivendita del pesce, infatti vendiamo pesce fresco tutto l'anno direttamente pescato correttino da queste vasche che vedete, mentre nel laghetto piccolino che abbiamo di fronte a noi, facciamo pescare nel periodo estivo principalmente i bambini, forniamo i primi erudimenti della pesca a chi volesse imparare, ai bambini, ai giovani, con delle canne semplici, senza il mulinello, semplici da utilizzare. Noi infatti oggi siamo presenti con pescatori da bolognesi e da bigatini, come dicono sempre i bolzanini che li dovremmo fare la sfida, ma tanto poi li massacriamo, non è un problema. Pescatori specifici da trote, abbiamo presenza femminile e bambini e oggi pescheremo tutti e faremo tutti una bella giornata in compagnia. Qui ci troviamo invece nella parte bassa dei vari laghi, dove vi sono le trote già di una certa grandezza, diciamo circa dai 5 ai 10 centimetri, dove continua la fase di allevamento, giusto? Sì, questi sono due laghetti che utilizziamo per l'accrescimento delle trotelle. Questo è all'interno del nostro allevamento, abbiamo queste vasche in acciaio inox, dove riponiamo le uova, queste derivano dalla spremitura che abbiamo iniziato nel mese di novembre, quelle nell'angolo sono le prime che abbiamo spremuto, che sono già cresciute, come possiamo vedere. Qui abbiamo acqua di sorgente che sgorga direttamente dalla montagna e i mulinelli servono per ossigenare l'acqua. Allora Cristian, facciamo una panoramica veloce dei prodotti senza raccontare troppi segreti, perché se no sai che... Infatti, infatti, non devono sapere niente. Non dirglielo a nessuno che abbiamo anche i prodotti da provare, quelli che loro non hanno. Infatti, infatti, i nostri segreti li teniamo... Non dirgli niente, eh? Non dirgli mi raccomando, non gli diciamo niente, vero? No, no, no. Vero che non gli diciamo niente, 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 niente. Oggi ho il piacere di presentarvi innanzitutto anche mio figlio Nicolò, che lo metteremo in pesca e sicuramente qualche cattura la farà, perché è una tecnica abbastanza facile. In più ho Eleni, che anche lei farà vedere qualche cattura, sempre perché è una pesca abbastanza facile. Poi abbiamo due grandissimi pescatori, nonché i signori Tubertini, che gli farò vedere due cose sulla truttaria, anche perché li ho visti curiosi, molto curiosi su questa tecnica. La prima cosa oggi rimane l'allenamento. Esatto. Perché la cosa importante è la grande sfida, quella che ci sarà prossimamente su Italia Anfici TV. Queste sono cose che non hanno, non possono essere tralasciate, dunque noi oggi siamo qua per allenarci. Allora, tanto tu lo sai cosa devi fare, giusto? Se ti danno fastidio i guanti, se ti danno fastidio i guanti, dopo te li togli, ok? Ok. Presto, ti massacriamo, non hai scampo. Ho paura. Allora, adesso puoi andare lì, puoi andare lì, allora, ti spiego una cosa, devi, quando lanci, stai sempre, guarda, guardami, guarda sempre dietro, perché può passare della gente, e se gli pianti questo qua nell'orecchino non va bene, ok? Allora, tu peschi sempre, poi lo sai, no? La canna bassa. Allora, tu peschi sempre, poi lo sai, no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per le esigenze televisive sguadagniamo i pesci, ma normalmente come sappiamo l'etica della trottaria dice che il pesce va slamato in acqua senza toccare, ci sono slamatori apposta, ma oggi per le esigenze televisive facciamo questo tipo di catch and release. Il pesce è meraviglioso con dei colori stupendi, preso con l'esca segreta, non glielo diciamo. Grazie a tutti. Con la manovellina in sughero l'abbiamo caricato praticamente con il trecciato nuovo della Oracle Area che viene fatto anche nella Oracle Tin per il feeder. E' stato imbobinato a 75 metri, proprio perché la trottaria pescando ultralight non ha bisogno di lunghezze eccessive. Per il feeder invece il tin che è di colore verde è imbobinato su 150 metri. Siccome la pesca della trottaria è basata sul cacciare lease, adopereremo le nuove teste di guadino gorilla in eva con la rete di gomma, perché è praticamente per il cacciare la rete del futuro. E l'abbiamo praticamente montato sui nostri manici dell'azienda Tubertini sempre, telescopici con un'estensione di 135 centimetri. Come potete vedere per dire se peschiamo dalla parte opposta del lago abbiamo un'altezza perché c'è un muro fatto in sasso e allora riusciamo ad andare a salpare il pesce lo stesso. Inoltre sono a presentare i nostri spoon dell'azienda Tubertini della linea Seica. Voglio far vedere anche inoltre il nostro astuccio T-Small, diciamo, che è praticamente studiato per metterci dentro spoon, ami piombati, volendo qualche cucchiaino e scarti artificiali. Ciao Luciano, quando ci siamo sentiti al telefono ti avevo parlato del nuovo trecciato, quindi questa se non la venite a prendere è un'arma segreta perché non arriverete mai dove arriviamo noi con questo filo qua. Andando un po' sul tecnico, per quanto riguarda gli artificiali, sono stati tutti studiati da Christian, da Andrea Ferro, da Arnold Herrmann, dal Presidente Innocenti. Anche le canne stesse, è stata seguita tutta la progettazione sia delle Finesse che delle Finesse Limited con Stefano tramite loro. Io ho seguito più che altro la parte del Dainema. Questo è un nuovo Dainema giapponese che abbiamo introdotto quest'anno, si chiama Oracle, Oracle Thin. L'abbiamo in due versioni da 75 metri per quanto riguarda la trottarea e siccome è molto utilizzato così fine anche nel feeder, l'abbiamo fatto nei 150 metri anche per il feeder. Questo è il nuovo mulinello invece che abbiamo fatto, si chiama Arias, completamente in metallo, che fa le misure 1000-2000 e nato appositamente per la pesca del trottarea. Finesse Limited, potete vedere l'azione. Sicuramente abbiamo un insieme di materiali selezionati, provati, testati da tutti i nostri pescatori. Ed è una pesca, naturalmente gli ami sono tutti senza ardiglione. Ed è una pesca divertente che si sta sviluppando anche a livello agonistico in Italia. E la cosa positiva è soprattutto che si fa caccia in release, cosa che nelle trotte fino adesso non era mai stata fatta. Ecco un altro bel pesciolino. Questa è un'iridea. Questa è un'iridea. Hanno dei colori bellissimi qua. Sono argento vivo. Ecco voi, argento vivo. Adesso la rilasciamo. Sempre con la massima cautela. Ecco che se ne va. Luciano, Luciano. A rose bianco. Gli ho dato il mio. Pianino Nicola, bravo. Che spettacolo. Non la tirare fuori, non la tirare fuori. Alzala solo, alzala. Portala qui. Bravo Tato, bravo. Ecco qua. Tieni la canna dritta, così. No che non si è fatta male, non si fa mica male. Gli ridiamo l'acqua un attimo. Ecco Nicolò. Ecco Nicolò, guarda. Guarda Nicolò. Ah, io e Glauco ti prendiamo anche te in squadra. Contro Luciano e Arno. Ah, sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Lo facciamo proprio. Ecco che va, bella vispa. Non potete vedere la truttaria. È una tecnica molto semplice. Una cannetta, un mulinello, qualche spoon. Un bimbo che prende i pesci, si diverte. Questo. Bravo Nicolò, ne hai presa un'altra. Bravissimo. Bravissimo Nicolò. Un altro pesce. Glauco, lo prendiamo in squadra. Un altro ne ha preso. Un altro. Ma vai. E che pescione. Pianino avanti. Pianino così. Grauco. Alza, alza la canna. Alza la canna. Alza la solo. Porta. Bravo Nicolò. Guarda, si è già sganciata da sola perché logicamente la truttaria prevede gli ami senza l'ardiglione. Praticamente barbless. Questo è un altro bel pesce. Cerchiamo di non toccarlo mai. Lo prendiamo da sotto. E lo rispettiamo. Ai massimi livelli. Allora. Stai calmo che abbiamo un guadino solo. La portiamo in guadino. Bella. Brava Eleni. Brava. Che bella. Mucca. Mucca, cosa c'è qua? C'è una trotta. Sempre slamata con cura, senza toccare il pesce. Salutali i telespettatori. Salutali. Saluta tutti. Ciao a tutti. Anche una ragazza truttaria prende i pesci. Questo tipo di tecnica si può usare anche in mare, secondo me, per pescare piccole ricciolette, pesci predatori, anche vicino ai porti, nelle scogliere. E' una tecnica che si può fare. Tipo all'isola di Creta, nel secondo porto, ci sono spesso molte piccole ricciole che aggrediscono laterini e piccoli pesci. E' una pesca che si può fare, perché si può fare tranquillamente il catch and release. E' divertente. Tira sicuramente più di una trotta, una piccola riccioletta. E quando andremo giù a Pasqua proviamo. Vai, vai! Prendigli all'attacco guadino. Allora, andiamo a sguadinare questa. Poggiamo la canna. Eccola qua. Io penso, Pres, che ti manderemo le leni e il figlio, il giovincello qua che ne ha presi tre, e ci pensano loro. Io e Cristian possiamo anche stare a guardare, non è assolutamente un problema. Molliamo. Ecco. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Come andiamo Glauco? Andiamo bene. Le leni ne prende di più di me. Dunque faremo partecipare molto probabilmente lei. Allora contro Arno e Luciano facciamo pescare Niccolò e le leni. Vabbè sicuro. Vabbè certo, dai. Tanto sono emigliani anche loro. Certo. Ma infatti. Grande Glauco. Grande Glauco. Diciamo ad esserci presto, un po' alla volta. Un po' alla volta arriviamo, non ti preoccupare. Ah, questa qua è stupenda Cristian, vieni a vederla. Spettacolare, un altro affario. Ha dei colori. Eccola lì bella. Il bello di questa pesca è che con un canino del genere, fili sottilissimi, è più divertente prendere una tortella da due o tretti che è un tonno con una canna da 50 libri perché fondamentalmente poi la pesca è divertimento e questo è divertimento puro, soprattutto grazie all'attrezzatura. Ci vuole delle canne giuste, mulinellini giusti, leggerissime, non è una pesca paticosa, è una bella emozione e una canna così sottile, così morbida, così leggera ti dà un'emozione particolare. Poi praticamente è una pesca molto semplice, molto facile, alla portata di tutti in 5 minuti un impara a farla, poi magari l'esperienza, tante cose, col tempo ti fanno prendere qualche pesce in più ma se i pesci ci sono tutti possono catturare qualcosa, troppo bello. Nicolà oggi ti sei divertito? Sì, un tanto, tanto. E mi dici una cosa, mi dici che trote abbiamo preso oggi? Un pari. Le? Pari e le iridee. E poi cosa abbiamo fatto? Le abbiamo liberate tutte? Le abbiamo liberate tutte, le abbiamo lasciate andare. E ci siamo divertiti tantissimo. E' fortuna che non sono morte. Vuoi dire ai bimbi di cominciare a pescare anche loro che è uno sport bello e sano in mezzo alla natura? Sì. Glielo vuoi dire? Allora diglimo, bimbi, andate a pescare. Bimbi, andate a pescare. Ragazzi questo è un pesce veramente stupendo. questa è la classica Puccini, diciamo, durante flash, diciamo, il fulmine che il fulmine ha colpito. Colpito veramente, è una cattura veramente eccezionale, veramente bella, hanno una qualità di pesci fantastici. Con la massima cautela, eccola, che se ne va. Oggi siamo venuti praticamente al laghetto Le Sorgenti, dove è un posto in cui io personalmente ci sono affezionato. Ho voluto passare questa giornata insieme a tutta la famiglia Tubertini, a presentare i prodotti, a passare una giornata in compagnia e penso che ci stiamo riuscendo nel migliore dei modi. Come diceva prima Glauco, la tecnica della truttaria è una tecnica veramente ultralight. Peschiamo con dei nema, dei trecciattini veramente sottili. Nello stesso tempo, nello stesso tempo montiamo dei finalini, diciamo, dello 0,18, dello 0,16, in base all'ondulante anche che andiamo a montare, diciamo lo spoon. Uno spoon leggero, per dire, possiamo pescare con dei finali anche del 14, del 16. Uno spoon più pesante, diciamo, si parla di spoon da 3 grammi in avanti, magari pescare con un filo del 18 potrebbe essere utile, anche perché la frustata nel lancio è lì che si strappa. Che dire, la truttaria ormai ha sbancato in tutta Italia, nel mondo, nasce dal Giappone. È una tecnica abbastanza facile, come avete visto oggi, per dire, ha preso i pesci Nicolò, ha preso i pesci Eleni. Eleni, per dire, non aveva mai pescato nella truttaria. Glauco si è approcciato per la truttaria per la prima volta, ha fatto qualche bella cattura e penso che si sia divertito. Come andiamo, Glauco? Adesso ho messo su quell'artificiale che mi hai detto tu giallo prima, col bianco e l'arancione. Questo qua? Quello che ti ho rubato? Quelle esche segrete che non dobbiamo far vedere nessuno. Certo, certo, non gliela facciamo vedere. È fatto in air metal. Esatto. Flash. Cosa molto importante, secondo me, da quello che ho potuto vedere, è alternare i colori. Anche per ingannarle, perché il lago è piccolo, la quantità di trotte all'interno non è sicuramente elevata, sono trotte difficili. E alternare i colori, le forme, così può darti qualche mangiata in più. Almeno quello che ho notato è che quando cambi il colore, di solito una mangiata la vedi. Adesso proviamo a venire via un pochino più veloce, un pochino più in superficie, per provare di sondare i vari strati di acqua. Eccola. Infatti l'abbiamo presa. E' andata via da sola. Meglio. In gara press questa era buona, eh. No, non pensavi che siamo in video e allora dovevo tirar piano, ma in gara da là a qua ci metto un secondo e mezzo. No, te lo dico. C'è da dire che partiamo, io almeno parto avvantaggiato in queste sfide che faremo, perché sono profano, dunque non ho niente da perdere. Ma nel caso in cui io vinca, sicuramente sarà una cosa molto divertente. Allora, questa è un'anteprima di Casa Tubertini. sono due artificiali che ho già provato in acqua e ve li voglio far vedere perché saranno i nuovi arrivi della linea Seica Area. Grazie a tutti. Bene, siamo in chiusura perché ormai ci hanno già abbandonato tutti, sono già tutti dentro a caccia di tortelloni, dunque non vogliamo arrivare i secondi neanche lì. Sì, anche perché se no ci rimane già tutti. Eh no, perché se no ci rimane niente. No, infatti. Non c'è proprio niente, zero. E' stata una bella esperienza, abbiamo preso un po' di trotte. Certo. Ripeto, non abbiamo fatto un'emissione esagerata perché ci tenevamo a rispettare quello che è l'ambiente stesso, le proprie caratteristiche principali che trovi quando vieni a pescare in questi ambienti. Prendi dei pesci belli, sani, buoni anche da mangiare, dunque non c'è niente di male a portare a casa uno o due per mangiarli. i padroni del lago sono dei ragazzi fantastici, vi consigliamo sia la tecnica di pesca che il lago stesso. Esatto. E vi diamo appuntamento alla famosa sfida che... Esatto, allenatevi. Oh, ragazzo. Allenatevi, ragazzi. Allenatevi. Oh, non ce n'è proprio. No, no. Va bene, grazie a tutti. Buona giornata a tutti. Arrivederci alla prossima. Ciao. Arrivederci. Questa è la vera trottarea. Qua non c'è bisogno di artificiali, di niente. Vedi, questi vanno in pastura che non se ne accolgono neanche. Ciao ancora. C'è bisogno solo di una forchetta. La forchetta. La forchetta. La forchetta, il vino ce l'abbiamo, l'acqua c'è, i torti dove ci sono. Bene, siamo a posto. Vieni a mangiare anche te, dai. Non stare a fare le riprese, se no ti finiamo anche i tuoi. Vieni, vieni. Vieni, vieni.